Il prossimo punto in discussione è la mozione a firma dei consiglieri Ciancio, Vitrotti, Stelitano e Gugliotta, avente ad oggetto ripristino e illuminazione pubblica comunale in via Pianuova, avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle reti d'impresa tra attività economiche su strada. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Grazie consiglieri, veramente gradirei un po' di energia anch'io dopo quello che ho ascoltato rispetto alle procedure e a come si è fatto e come si è arrivato a discutere queste emozioni. Io ho ricevuto un ordine del giorno in cui mi sono organizzato la giornata in un certo modo, però è cambiato e ne sono ben lieto comunque di arrivare a un risultato corretto. Poi magari mi riservo di comunicare in altra forma il mio pensiero rispetto alle procedure e regolamenti. Infatti eviterei di comunicare qui perché noi ci siamo semplicemente attenuti al regolamento. Adesso lei deve semplicemente presentare la sua mozione. Sì ma non mi permetterei mai sedendo in quell'aula dove lei sta seduta adesso di definire piccoli interventi. Io ho chiesto solo il regolamento. Non ho definito. In versione si può fare, basta votare. E io le ho risposto in base, consigliere Ciancio, evitiamo polemiche, le ho risposto in base al regolamento. Se lei il regolamento non se l'è letto è un suo... Allora siccome lo conosce bene non mi faccia queste polemiche. Il regolamento dice quello che si può fare e che non si può fare e ci siamo mossi esattamente in linea con il regolamento. No, non posso accettare questi attacchi. Però lei non può dire piccoli interventi. Lei mi dica che un intervento contro, uno a favore, si vota e invertite l'ordine della vota. Io non ho detto interventi piccoli. No, lei ha detto... Ho detto brevi interventi... Allora, consigliere Ciancio, ho detto brevi interventi perché il regolamento prevede tre minuti. Per me sono brevi interventi... Lei doveva fare prima del consiglio le interrogazioni, giustamente, le poteva fare. Io le potevo fare ma ho un grande rispetto per la conferenza dei gruppi consigliari che ha deciso diversamente. Quindi le chiedo di avere... Le chiedo di avere... Ma che è arrivato un ordine del giorno diverso a me da quello che avete deciso, eh? Io sono un consigliere, non me in conferenza di capito. Io le ho già risposto in merito a questo, consigliere Ciancio. Quando dico brevi intendo il rispetto dei tre minuti che non diventino di più. Quindi quando intendo brevi, non intendo piccoli nel senso che non dovete parlare. Intendo che dovete... Meno male che ci sono le riprese, quindi le riprese... Se lo guardi. Eh, se lo guardi, se lo guardi. Tranquillamente, non è un problema. Va bene. Ho detto anche che... Mi sono permessa di dire anche che c'erano, diciamo, delle motivazioni che dal mio punto di vista erano basse. Perché? 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 Il regolamento veniva perfettamente seguito alla lettera e lei si ostinava a voler... Mantenere una posizione che non era quella prevista dal regolamento. Ma ancora, devo ripetere... Dobbiamo continuare? Io condivido il fatto che si possa fare un'inversione dell'ordine dei lavori. E allora qual è il problema? Nessuno, però lei non mi può dire che ho fatto un intervento piccolo piccolo e basso basso. Io ho chiesto di eseguire il regolamento in aula. No, lei si impuntava... Una favore. Lei si impuntava su delle cose che le sono state fatte notare anche dai consiglieri dell'opposizione. Quindi, la prego, la prego. Non è questa la sede. Io le chiedo il rispetto dell'aula in cui sta. Grazie, Presidente. Ecco, quindi adesso vorrei tornare all'ordine dei lavori e parli della sua mozione. No, della mia mozione. Le foto in aula, Presidente. Le foto in aula dall'altra parte si possono fare. Perfetto. Grazie. Bene, allora, leggo per intero la mozione che aveva un carattere d'urgenza perché nel mese di agosto, che io naturalmente stando a Roma ho visto lungo e largo il municipio... Però magari i cerconi, le faccio anche adesso, no? No, le ha fatte prima, le faccio anche adesso. Certo, certo. Non importa, ci sono i video, non è molto importante. Io ho detto che si può fare dalla parte di là. Allora, i cittadini... Allora, io li vorrei stabilire l'ordine in quest'aula. I cittadini non devono parlare. Le foto sono ammesse solo dalla parte del pubblico. Ci sono riprese che stanno filmando tutto. Quindi le foto da sole, posso immaginare, dicano cose che il video può meglio esplicitare. E vorrei riportare il Consiglio all'ordine dei lavori. Consigliere Ciancio. Oggetto, era una mozione urgente che comunque è presentata un po' subito all'inizio di settembre per un problema incredibile che abbiamo molte strade, soprattutto su Via Appia. Io ve la leggo per intero, per chi non ha avuto il piacere di leggerlo, non gli è arrivata via internet. Quindi ripristino, illuminazione pubblica comunale in Via Appia Nuova e avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle reti di impresa tra attività economiche su strada. Premesso che dal mese di agosto 2016 l'illuminazione pubblica e molti tratti di Via Appia Nuova risulta spenta e si rileva peraltro che in alcune zone l'illuminamento è sottodimensionato al punto tale che si sono determinate molte situazioni di pericolo con conseguenti incidenti stradali. Premesso che nelle zone in cui le lampede sono accese oggettivamente l'illuminamento è carente rispetto alla vetustà dei punti luce e alla relativa manutenzione, all'urgentissima necessità di sostituire le lampede dei punti luci posti sul palo a doppio braccio nella parte centrale di Via Appia dove ci sono i parcheggi. Premesso ancora che nel quadrante Appio, lungo la Via Appia Nuova, nella piazza dei Re di Roma, un degrado generalizzato avanza e il tutto non è riconducibile soltanto all'annodata quantità di transenne lasciato ovunque, ma anche e soprattutto all'inesistente o carente illuminazione pubblica. Premesso ancora che il costo annuale del comparto dell'illuminazione pubblica a carico dei cittadini è consistente sia nella parte riguardante i consumi energetici che in quella dovuta alla manutenzione ordinaria. Considerato che avere l'illuminazione pubblica efficiente in tutto il municipio settimo ha un'importanza non solo economica per le attività commerciali presenti, ma di fatto determina oggettivamente un aumento della sicurezza sia stradale sia di ordine pubblico e infatti la dinamica di alcuni gravi incidenti stradali e numerosi episodi di cronaca nera avvenuti nel nostro territorio e nel municipio settimo negli ultimi tempi lo testimonia. A tal proposito si segnala che dette strade, visto il gran numero di incidenti mortali che si sono verificate, sono state inserite nella lista nera o black lista delle strade più pericolose di Roma. Considerato ancora che numerose sono state le richieste avanzate dai cittadini per segnalare il disservizio in tutto il quadrante e i titolari delle attività commerciali e molte associazioni presenti nel territorio che operano, anche in via Appia Nuova, che è considerato l'asse commerciale più lungo d'Europa, hanno chiesto al municipio di predisporre di predisporre un progetto generale per avviare un possibile recupero funzionale ed ambientale dell'intero quadrante. Considerato ancora che la Regione Lazio, proprio con la deriva di giunta 94 del 15-3-2016, ha provveduto all'approvazione dell'avviso pubblico finanziando a favore della costituzione di reti di imprese tra attività economiche su strada, proponendo un finanziamento totale di 10 milioni di euro, 8 milioni per il 2017 e 2 milioni di euro per l'anno 2018, dando un contributo massimo ai vari progetti di 100 mila euro. Considerato ancora che il municipio settimo, con il grado di soggetto beneficiario delle risorse legate all'avviso pubblico, si impegna a fornire supporto nella fase di predisposizione dei programmi di rete e a garantire le condizioni generali dei servizi annessi a tutte le strade. Considerato ancora che il municipio settimo attuerà le dovute procedure istruttorie che consentiranno l'adozione dei progetti ritenuti meritevoli mediante atto formale da inviare alla Regione Lazio entro il 15-11 che è stata data rinviata, accertato che Acee Illuminazione Pubblica e la società del gruppo Acea che si occupano di progettazione, costruzione, esercizio e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e artistica della capitale, la stessa a proposito del piano regolatore dell'illuminazione comunale si occupa di eseguire, cioè Acea si occupa di eseguire la manutenzione di tutta la rete esistenza che sono circa 220.000 lampade e oltre 7.000 km di rete. Si occupa quindi della progettazione di sistemi di telecomando, di telecontrollo con la realizzazione di sistemi di illuminazione pubblica volti al risparmio energetico e peraltro illumina i più importanti monumenti e i siti archeologici presenti sul territorio della capitale tra gli ultimi interventi realizzati con tecnologia LED, il foro romano, i fori imperiali sul progetto del premio Oscar Vittorio Storano, la Fontana di Trevi, la Basilica di San Paolo e 16 ponti sul Tevele. Utilizza di fatto corpi illuminanti a tecnologia LED e dal 2008 sta avviando una pianificazione della trasformazione con tecnologia LED di tutti i corpi illuminanti presenti sul territorio del Comune di Roma. Ricordato che il successo delle iniziative pubbliche come l'avviso della Regione Lazio è finalizzato alla costituzione di rete di imprese territoriali o filiere tra attività economiche su strade per migliorare l'attività delle aree urbane interessate e per lo sviluppo di un modello di partenerato pubblico-privato sostenibile nel tempo dove trova condizioni più favorevoli in termini ambientali naturalmente. Per tutto ciò il Consiglio del Municipio Roma VII risolve di impegnare la Presidente e tutti gli assessori competenti, ognuno per le loro rispettive delega, a compiere tutti gli atti per fare per risporre urgentemente. In primo, un intervento per eseguire una manutenzione ordinaria e straordinaria che prevede sia la sostituzione dei numerosi corpi illuminanti che in questo periodo sono spenti, sia il ripristino di eventuali tratti di rete distaccati o malfunzionanti ubicati in via Pianuova nel tratto da Porta San Giovanni a Collabani. Questo lo ricordo perché ricordo che in quel periodo che è stata fatta l'illuminazione pubblica hanno sperimentato un nuovo modello senza scavo, con una trivella a telecamera guidata. Quindi non si sa dove è il tratto sconnesso, ecco perché abbiamo questo disservizio su tutta via Appia. Secondo punto del risolve, un piano di intervento per la verifica e la riqualificazione di tutto il comparto dell'illuminazione pubblica e di tutte le strade del municipio Roma VII, con particolare attenzione all'asse commerciale di via Tuscolana, ai quartieri periferici che presentano grave situazioni di pericolo in tutte le aree sensibili dove si possono determinare problemi di sicurezza. Il terzo punto che è legato al finanziamento regionale, una lettera di intenti per tutti i soggetti promotori di rete di partenariato del nostro municipio che di fatto nelle forme previste dell'avviso pubblico si possono costituire per eseguire attraverso i progetti presentati un miglioramento dell'offerta commerciale, culturale e della qualità della vita. Perché dico tutti? Perché il municipio si dovrà attivare a trasmettere i progetti che riceverà. Io dico che buone regole vogliono che tutti i soggetti che parteciperanno, potrà partecipare Morena, Quartomiglio, Statuario, che per tutti i progetti ci sia la medesima lettera d'intento con attenzione particolare a questo modello di sviluppo e di avviso pubblico eseguito dalla Regione Lazio. Non è un subordine ma è un impegno semplice che la Presidente, proprio per questo avrei voluto che la Presidente Lozzi con cui abbiamo condotto varie battaglie fosse stata qua ad ascoltare, ma ritengo che lei abbia letto in modo puntuale, non è una risoluzione, era una mozione urgente, un'attenzione che voglio dare agli assessori competenti affinché quello che Acea si è impegnato a fare lo continui, lo risolva, in tutto il territorio, perché ci potrebbe essere un grosso risparmio energetico in termini economici, mettere la lampada a LED ci fa risparmiare un 30%, i controllori programmabili sono un altro 30% e quindi gli impianti proposti devono seguire queste direttive. Io voglio essere propositivo, non voglio essere il consigliere del no, io sono il consigliere del sì quando si fanno le cose giuste e per questo non ritengo utile che è giusto che si candida a guidare una città come Roma, abbia attenzione per queste due direttrici così importanti come l'Appia, la Tuscolana e tutti i quartieri che stanno intorno proprio dall'aspetto più importante che è quello dell'illuminazione pubblica. Si è attuato un altro taglio sulla Roma-Fiumicino, voi ricordate il doppio braccio e la grande visibilità che aveva detta strada, sono stati spenti anche lì. Non vorrei che via Appia si iniziasse o via Tuscolana un procedimento di risparmio che vada a fare a fase alterne, a dare a fase alterne un servizio che invece è di vitale, fondamentale importanza. Incidenti, sono i due ragazzi morti all'angolo via Freggene, via Appia, di fronte a McDonnell, sono due altrettanti in via Tuscolana, di cui sicuramente la visibilità vi invito di sera a percorrere via Appia, via Tuscolana e altre strade, soprattutto anche nelle... c'è una strada in particolare, Gregna-Sant'Andrea, addirittura che mi ricordavano non esiste l'illuminazione pubblica, quindi in bilancio c'era addirittura l'intervento, quindi questa è la mozione che io presento a questa Aula Suprema e si dovrà pronunciare. Grazie Presidente, grazie Consiglieri. Ci sono interventi? Consigliere Principato. Presidente, colleghi consiglieri, ad oggi esistono nel nostro municipio dei cittadini che vengono considerati di serie A, di serie B e di serie C. Il Movimento 5 Stelle vuole portare la luce prima di tutto ai cittadini di serie C. L'illuminazione pubblica, in molti tratti, in alcune zone del nostro municipio, è inesistente ed è il nostro interesse portare la luce dove attualmente non c'è. Abbiamo delle fermate autobus a rischio di chiusura per carenza o totale assenza di illuminazione. Ci sono delle vie con problemi di sicurezza anche per questo. Mi viene in mente ad esempio Passo Lombardo. Noi chiederemo di spostare queste risorse sulla messa in sicurezza delle strade per portare innanzitutto l'illuminazione dove non c'è. Perché dobbiamo ricordarci che questi cittadini hanno gli stessi diritti di chi vive su Via Appia e su Via Tuscolana. Tra l'altro nel titolo della mozione si chiede l'attenzione solo su Via Appia Nuova mentre al punto 2 degli impegna chiedete un intervento generico su tutte le strade del nostro municipio. Allora intanto vi faccio una domanda. Se siete arrivati a chiedere questo intervento così generico e dispersivo mi chiedo cosa avete fatto negli scorsi anni in cui eravate al governo di questo territorio? A questo punto per quanto precedentemente espresso chiediamo ai firmatari della mozione consiglieri Ciancio, Vitrotti, Steritano e Gugliotta il ritiro per poter collaborare seriamente in commissione con una progettualità che sia reale e concreta e che tenga conto soprattutto delle priorità. Grazie Presidente. A questo punto visto che è stato proposto mi sembra di capire è stato proposto un ritiro dell'atto come già precedentemente è successo mi ricordo in merito a una nostra mozione che era stata presentata mi era stato chiesto all'epoca se c'era la volontà di ritirarla di sospendere il consiglio per un breve tempo e breve intendo non un'ora ma di cavarcela in 5-10 minuti 5 forse pochi ma in 10 minuti per capire se c'è la volontà di ritirare quest'atto e di portarlo in commissione secondo la richiesta espressa dal consigliere principato quindi la volontà di ritiro e di sospensione deve essere espressa dai firmatari qualora ci sia questa richiesta io sarò assolutamente disponibile ad una sospensione come sempre non c'è bisogno benissimo non c'è necessità di sospendere non c'è volontà di ritirare e di passare l'argomento le lascerò subito la parola anche se in realtà non potrebbe in questo momento da regolamento mi dispiace non può deve aspettare la fine di tutti gli interventi quindi penso che la situazione sia questa non c'è la volontà di portarla in commissione e di addivenire ad una programmazione condivisa e se è strutturata come ha detto il consigliere principato ma di voler andare avanti con la mozione presentata quindi non ci sono nessune obiezioni si va avanti con la discussione se ci sono altri interventi potete tranquillamente presentarvi per gli interventi tutti i firmatari sono d'accordo a non volerla ritirare mancavi trotti quindi non possiamo saperlo va bene benissimo non c'era no era già confermato mi perdone siccome è una mozione non è una risoluzione quindi l'atto non si può ritirare eh no le faccio presente che non è quello che è successo in questo primo consiglio mi dispiace l'atto da regolamento qualora i firmatari lo ritengano necessario o sensato possono tranquillamente ritirarlo si sospende come è già stato fatto nel primo consiglio di settembre perché il movimento 5 stelle l'ha fatto ha deciso di lavorare in commissione e questo è stato fatto quindi per favore di nuovo chiedo il rispetto del regolamento sono qui per testimoniare che la volontà non c'è ne prendo atto quindi non chiederò la sospensione del consiglio e come ho già detto si va avanti con la discussione ci sono interventi non ci sono altri interventi passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto certo certo alla fine della discussione sì no mi scuso ma naturalmente volevo dire che non si tratta di cittadini di serie A o di serie B dove c'è l'acqua deve continuare ad essere erogata dove c'è la luce bisogna continuare ad essere erogata non si pone il microfono tutto quello che c'è nel dispositivo dell'impegna vale per tutto vale per l'angolo di Passo Lombardo che ritengo giusto che ci siano i servizi ma vale anche per l'ultimo angolo dell'appio tuscolano o dell'appio latino di Quartomiglio questo è un impegno che impegna chi sta amministrando non ritengo utile assolutamente che lo debba discutere per tali emergenze in una risoluzione in un atto sta governando un movimento che ha una piena maggioranza agli assessori ho visto oggi e ho potuto accertare che ci sono degli assessori che operativamente vogliono lavorare devono lavorare per cui quello che chiediamo nel risolve è un lavoro di routine che devono assolutamente fare non trovo alquanto pretestuoso dire rivediamoci in commissione per dire che cosa questa è un'urgenza che possono accertare valutare e poi predisporre l'intervento dare ordini per eseguire che è una cosa molto difficile non è una cosa facile dare degli ordini corretti e giusti perché vuol dire conoscere bene i problemi proprio per questo motivo riteniamo e naturalmente ringrazio i consiglieri che danno piena fiducia a questo intento di risolvere ad eseguire tutto questo ricicciare quello che è stato fatto ad esempio noi dobbiamo prendere degli esempi positivi e migliori perché poi ci ha portato a un consiglio successivo in cui siamo andati allo scontro sulla stessa mozione cara presidente e cara maggioranza che ha l'obbligo rispetto ai problemi severi che abbiamo trattato in quella risoluzione di dare soluzione ai problemi si trattava dei fondi per i centri antiviolenza non è che dopo la bocciatura della nostra prima risoluzione il ritiro della vostra mozione e il lavoro fatto in commissione siamo arrivati a un atto determinato conciso e puntuale no sono stati bocciati i due emendamenti proposti dalle minoranze perché non le ritenevate corrette allora a questo punto se voi vi assumete la responsabilità di dire ai cittadini che le luci non devono essere riaccese e non determinano problemi di sicurezza dove ci sono sono stati spenti o casualmente perché può darsi che domani vada un operaio stamattina ho fotografato il numero perché qualsiasi cittadino può prendere il numero del palo telefonare e invitare la CEA a dire di accenderlo ma siccome lo fanno da molto tempo e questi numeri non si leggono neppure e nessuno ha tre metri mi scusi sono cinque minuti mi perdoni e nessuno ha l'altezza di tre metri per leggere il numero del palo che non funziona si limita a dare il numero civico dove esso pone un disservizio e proprio per questo vi assumete la responsabilità di dire noi non vogliamo fare la manutenzione ordinaria e straordinaria grazie allora ci sono altri interventi c'era la dichiarazione di voto quindi siamo in dichiarazione di voto consigliere Candigliota ma scusate che oggi sono un po' anche raffreddato grazie presidente consiglieri io giustamente ho ascoltato abbiamo sentito queste queste affermazioni che sembra che noi ce ne freghiamo insomma dei cittadini da quanto da quanto sembra poi però però leggiamo una mozione dove di fatto non trovo una chiarezza e le spiego anche il perché io prima di tutto inviterei a leggere ricordo che sono tre minuti il contratto stipulato con Acea no no io sto dicendo siccome allora le dico così siccome che ho il contratto di servizio stipulato dalla Acea e diciamo anche diciamo la delibera numero 3 del 2007 e la 130 delega Acea per dei servizi e questo lei lo sa per questo io non so se lei sa anche che è previsto un controllo semestrale da parte del comune trimestrale mi scuso quindi trimestrale quindi noi in teoria un lavoro dovremmo dovrete darci anche atto e il momento di farlo quando voi scrivete una cosa del genere che per me è chiaro quanto l'articolo 70 della Costituzione che volete far approvare della nuova Costituzione per me non può essere accettata in quanto poi c'è anche non si chiarisce bene il discorso delle reti di impresa secondo me non è stato neanche letto bene io consigliavo di leggere le facche che forse vi davano delle indicazioni migliori io per questo devo dire solamente o si faceva in un modo o se no non siamo favorevoli grazie ci sono altre dichiarazioni di voto consigliere Toti sì a parte io devo dire che sono stato sempre all'opposizione perciò il rispetto al ripristino dell'illuminazione e rispetto invece c'è una rete di illuminazione inesistente è chiaro è da considerare questo discorso anche però io penso che siano due discorsi diversi la rete inesistente sulla quale dobbiamo lavorare oltre il GRA è veramente un impegno forte che questa amministrazione deve avere nei confronti dei cittadini diverso e ripristino dell'illuminazione di via Appia via Tuscolana voglio dire e poi che è un discorso invece anch'esso importante perché riguarda le nostre strade commerciali che sono strade commerciali fra i più importanti non solo di Roma ma d'Italia quello perciò che deve essere fatto io penso è quello di mettere senz'altro in sicurezza ma penso che su questo la Commissione Mobilità sta lavorando di mettere in sicurezza il discorso non solo della via Negina che necessita senz'altro di un discorso di sicurezza ma anche e nelle indicazioni comunque della Commissione su quale diciamo noi stiamo lavorando tutti quanti quello di allargare alla via Negina anche mettere vicino la via Tuscolana e la via Appia proprio perché sono due strade ad alta pericolosità perciò il discorso della sicurezza e anche scarsamente illuminate e perciò ecco purtroppo ci sono fenomeni di incidenti stradali anche molto grave questo per dire che comunque io ribadisco sono due discorsi diversi una è una rete di illuminazione inesistente e l'altra la considerazione rispetto a vie importantissime consigliere Totti mi dispiace la devo chiedere perciò come indicazione di voto il voto nostro è positivo rispetto a questo perché la via Appia e la via Tuscolana anche esse devono essere messe al centro del dibattito e anche esse hanno bisogno di ausilio da parte del municipio consigliere Totti no consigliere Totti ha fatto consigliere Cerconi io lo preannuncio così dopo non mi dite che mi ripeto ho anche io depositato un'interrogazione sulla CEA quindi non me ne vogliate però l'ho già depositata e allora Fratelli d'Italia sarà favorevole favorevole perché dall'illuminazione dipende la sicurezza dei cittadini e riteniamo che in realtà cittadini A, B e C ormai non esistono più perché anche in territori dove in realtà prima potevano essere territori di serie A io penso alla zona dell'Appio Latina in realtà ad oggi stiamo messi in modo trasversalmente insomma messi male in modo trasversale in questo caso purtroppo non è neanche malcomune mezzo gaudio per cui diciamo che siamo messi male e crediamo invece visto che Fratelli d'Italia l'ha più volte anche chiesto nelle commissioni di occuparci come municipio della rete d'impresa che è un'ottima possibilità per questo territorio troviamo apprezzabile l'iniziativa e la proposta fatta dai consiglieri del PD quindi in questo caso voteremo favorevolmente grazie ci sono altre dichiarazioni di voto benissimo il consigliere Giuliano il consigliere Giuliano ha indiformità prego sia facoltà di parola sì sì e poi c'è un altro intervento allora grazie presidente un minuto per esprimere la difformità del voto io mi astengo in quanto nella lodevole iniziativa mi sembra che ci siano degli argomenti importanti che vengono comunque messi insieme che è quello del bando regionale che ha una funzionalità e quella appunto di invece verificare la problematica esistente e riguarda quindi anche la sicurezza che ci sono sulla nostra rete diciamo stradale appia tuscolana i quartieri fuori raccordo eccetera quindi siccome penso che sia un ragionamento talmente importante da affrontare con un lavoro adeguato quindi un conto è l'iniziativa dei colleghi che io apprezzo e un conto invece poi fare una differenza fra le reti che non esistono quindi quella che c'è da fare tra quella che deve essere migliorata e quella che deve essere ovviamente messa in sicurezza un lavoro è iniziato in commissione quindi io penso che una mozione non valga la pena su questo argomento da essere da portare a casa ma penso che sia interessante per territorio il risultato finale e quindi immaginavo che i colleghi che l'hanno firmata potessero fare questo ragionamento in commissione portando una risoluzione che contenesse effettivamente non la differenza fra i cittadini A, B e C ma che contenesse le differenze fra quello che è da fare ex novo quello che va migliorato e quello che invece deve mettere in sicurezza in quanto alcune cose sono state fatte nelle consigliature precedenti anche a livello comunale quindi per esempio impianti semaforici a led sono stati sostituiti ma non basta quindi non mi vorrei fermare a questo pensavo che potessero tirare la mozione e portarla in consiglio ma visto questo non è arrivato io mi astengo grazie 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 presidente e signori consiglieri io pensavo che questa mattina era devo ringraziare il consigliere Ciancio non tanto il PD il consigliere Ciancio perché ha fatto un lavoro importante sull'illuminazione pubblica ho visto l'assessore ho visti tutti non so chi è l'assessore di competenza ai lavori pubblici o quello che di competenza sarebbe cosa buona e giusta fare un intervento importante sulla CEA un consiglio sulla CEA il problema dell'acqua sulla via a Pianuova sono 15 giorni che c'è esce acqua da terra e perciò e ancora non viene risolto l'illuminazione pubblica di giorno è accesa tutto quarto miglio questa mattina l'illuminazione è accesa chi la paga questa luce io avrei detto da esperto consigliere al cittadino che mi chiedeva perché ogni giorno è accesa la luce e perché stanno facendo delle prove tecniche per vedere dove sono i guasti però naturalmente il cittadino inesperto che pensa che sono tutti delinguenti i ladri i spreconi non lavoratori e che loro hanno capiscono tutto e perché la luce accesa va sprecata no la luce accesa di giorno è che stanno facendo delle prove tecniche per vedere in quel quadrante come si può intervenire però vai a spiegare al cittadino tutte queste cose però un consiglio aperto sul problema dell'illuminazione pubblica che oggi il consigliere ci ha sollevato era importante sentire anche l'opinione dell'assessore cosa pensa di fare il rapporto acea territorio il rapporto acea comune il rapporto acea regione c'è questo bando che potrebbe essere una risorsa per il nostro quadrante per i nostri commercianti che stanno al buio al buio con le bancarelle piene di stracci davanti le bancarelle speriamo che le togliamo queste bancarelle cioè era vabbè perciò ecco e doveva essere un'occasione ma è un'occasione mancata io ricordo i consiglieri non le vorrei ricordare che dichiarazione di voto tre minuti guardi consigliera il presidente lei deve usare lei la consigliera è la presidente di tutto il consiglio infatti faccia finire e no mi fa finire lei mi sento mi scusa e no non credo proprio io sono la consigliera di tutti ho tagliato i tempi di tutti non li ho fatti parlare quando non dovevano parlare quindi la prego no la prego intanto di abbassare i toni perché questo è già il primo no è il primo richiamo adesso è il primo richiamo lei non può permettersi di alzare la voce in questo modo qui dentro e non con me quindi richiamo numero uno vogliamo arrivare a due allora abbassi i toni rispetti i tempi e rispetti l'argomento a me che lei mi fa i richiami io tremo di paura no lei non deve tremare di paura io applico il regolamento se voi non siete abituati è un vostro problema io lo applico io lo applico allora le facciamo notare ogni volta quando lei non è il presidente di tutti va bene certo me lo farà notare io lo faremo notare io ho tolto la parola anche ai consigliari del Movimento 5 Stelle che sono la mia forza politica avremo modo di osservare certamente osservi bene meno male che ci sono i video e ringrazio l'operatore che sta riprendendo le riprese perché oggi le ho fatti stare zitti più volte quindi lei per favore rispetti i tre minuti rispetti anche l'argomentazione perché sta andando un po' vago mi faccio presente che lei questa mattina ha fatto parlare alla consigliera Cercuoni per non so quante ore ma lei poteva posso parlare lei poteva ha letto gli interventi mi faccia parlare mi faccia parlare mi faccia parlare così capisce di che cosa parlo è intervenuta la consigliera Cercuoni la vogliamo fare questa dichiarazione di voto posso finire l'intervento difendi di dichiarazione di voto sì sì ma se lei mi interrompe i tre minuti saltano no questi non li consideriamo io l'avevo già chiamata perché erano scaduti grazie posso spiegare che cosa è successo stamattina con la consigliera Cercuoni io lo spiego non è molto importante in questo momento decidere quello che è successo con la consigliera Cercuoni io vorrei questo me lo spiega fuori adesso vorrei la dichiarazione di voto bene io gliela faccio la dichiarazione di voto se lei mi fa seguire il ragione a me no ragazzi per favore ma perché io ho bisogno di fare la dichiarazione di voto per dire se io sono favorevole o il contrario è sottintesa ma questo è il comportamento di quest'aula la dichiarazione di voto è favorevole ne prendiamo atto benissimo allora io non vorrei questi teatrini vorrei che il regolamento venisse rispettato se ci sono tre minuti di tempo per una dichiarazione ci sono posso anche concederne di più quando c'è buonsenso ma quando si sta divagando e si sta andando fuori del discorso di interesse i tre minuti non li concedo in più vorrei che questo fosse chiaro e vale per tutti non vale solamente per l'opposizione vale per tutti ho interrotto prima Candigliota interrompo adesso lei siamo benissimo benissimo vorrei per il rispetto di queste istituzioni evitare teatrini di questo tipo alzate di voce sceneggiate tipo quella della scorsa settimana in cui una consigliera ha chiuso gli occhi mentre faceva l'intervento prendendo in giro la sottoscritta perché ripeto questo è un altro concetto che voglio ribadire laddove le dichiarazioni e i riferimenti sono espliciti per me non c'è bisogno di dire nomi e cognomi queste sono cose che nel regolamento ci sono io le applico e le sto applicando con tutti vi sfido a dire che non le sto applicando con tutti allora adesso ci sono altre dichiarazioni di voto? no non ce ne sono direi di passare quindi alla votazione favorevoli astenuti ora diamo il risultato ok allora 15 voti contrari 6 favorevoli e 1 astenuto quindi la mozione è respinta passiamo quindi al prossimo punto all'ordine dei lavori la mozione affirma dei consiglieri Cercuoni e Carlone avente ad oggetto orientamento scolastico e reali possibilità di lavoro futuro i consiglieri consigliera Cercuoni e facoltà di parola quello che è successo con la consigliera Cercuoni oggi che è successo? poi ce lo spiegherà no allora io chiedo ai consiglieri di prestare particolare attenzione anche perché dall'altra parte diversi di loro insomma sono giovani diversi di loro sono insegnanti e hanno figli quindi è particolarmente importante la mozione che oggi ho portato all'attenzione che abbiamo portato con il consigliere Carlone all'attenzione ed è un un argomento che secondo me dovrebbe toccarci da vicino io non so se hanno qualcuno di voi ha una vaga idea di quella che è la situazione attuale della disoccupazione giovanile una disoccupazione che oggi tocca il 39% a luglio del 2016 e che non solo è una disoccupazione successiva ad un orientamento scolastico ma è una disoccupazione o meglio un'inattività che riguarda quelli che noi che oggi in Europa vengono chiamati NIT ossia not in education employment or training cioè i ragazzi che non sono coinvolti in nessun percorso né lavorativo né sociale né economico io vi dico la verità noi in Italia ci arriviamo sempre un po' dopo perché la questione dei NIT in realtà in Europa è una questione che viene affrontata ormai da parecchi anni e io ne sono venuta a conoscenza perché appunto partecipando come delegata alle European Youth Conference abbiamo avuto cinque giorni mi sembra a Cipro in cui si discuteva proprio di questo cioè delle problematiche dei NIT e collego questa problematica al sistema scolastico e all'orientamento per un motivo perché fondamentalmente i giovani hanno un po' perso la bussola e non credono più nelle istituzioni scolastiche e questo secondo me è uno dei più gravi danni e dei più gravi rischi della società moderna ossia pensare che con lo studio con il coinvolgimento all'interno delle associazioni all'interno delle istituzioni non si arrivi da nessuna parte oggi abbiamo considerate più o meno il 27% dei giovani in età tra i 15 e i 24 anni corrispondenti più o meno a un milione e tre e l'aumento della percentuale arriva al 31% se calcoliamo tra quelli tra i 18 e i 29 anni che non sono coinvolti in nessun percorso e come dicevo prima una disoccupazione che ha toccato livelli storici e là giustamente dire ma perché che c'entra con l'orientamento scolastico perché o ripartiamo da un sistema scolastico che funziona o questi dati sono indirizzati verso un aumento spropositato ora noi abbiamo in realtà anche sul nostro territorio tantissime scuole che cercano ed hanno effettivamente dei sistemi per l'orientamento che soprattutto negli ultimi anni stanno insomma stanno crescendo cioè nei piani delle offerte formative all'interno delle scuole poi insomma essendoci anche qualcuno che è professore ce lo potrà dire ci sono dei percorsi l'attenzione di questa mozione vuole in realtà essere quella di inserirci noi come istituzione in questo rapporto tra territorio giovani e sistema scolastico anche perché insomma sono state emanate le nuove linee guida nazionali sull'orientamento permanente cioè ci sono dei responsabili scolastici ma anche questi responsabili scolastici in qualche modo io credo debbano interfacciarsi con il municipio e il nostro ruolo è di primaria importanza cioè non possiamo pensare che un'istituzione così prossima ai cittadini si possa tirare fuori da questo percorso quindi quello che io chiedo in realtà non c'è un non c'è un un indirizzo specifico io lo porto perché chiedo che sia presa consapevolezza da parte del consiglio dell'importanza di questa situazione e soprattutto per elaborare anche perché lo chiedo interfacciarsi con il comune dei Roma agli uffici per valutare favorire i futuri progetti ovviamente su questo argomento cioè sosteniamo i ragazzi perché l'unica cosa che oggi si può fare e che si deve fare io questo lo credo ma ovviamente non riguarda questo municipio c'è una riforma del sistema scolastico è essenziale noi siamo in ritardo rispetto agli altri ragazzi europei usciamo dalla scuola un anno dopo siamo in realtà culturalmente più forti perché poi la nostra cultura è riconosciuta il livello scolastico è riconosciuto in tutta Europa ve lo assicuro io ho fatto studiato un anno in Francia e credetemi non perché chissà che a 17 anni sono partita e mi sono fatta un anno fuori e credetemi noi la preparazione che noi abbiamo su determinate materie e insomma anche forse le possibilità che abbiamo in Italia che è una nazione che potrebbe vivere sulla cultura sono veramente elevate non sappiamo sfruttarle oggi in Europa e non sappiamo indirizzare i nostri ragazzi su dei percorsi formativi idonei alle capacità che hanno allora io chiedo un po' di prendere consapevolezza di fare proprio questa mozione e poi per un'attuazione prenderla come una legge quadro passatemi il termine per poi se il presidente vorrà proporre invece nella commissione ad hoc una concretizzazione di questa che può essere una linea guida grazie ci sono interventi consigliera la zazzera grazie grazie presidenti e colleghi consiglieri allora apprezziamo il fatto che si sia dedicata l'attenzione proprio sui giovani alla loro formazione e alla promozione di attività di orientamento scolastico in grado di aiutarli a progettare il loro futuro lavorativo questo è un argomento che a noi interessa moltissimo e che seguiremo molto assiduamente che la nostra giunta municipale lo sta già affrontando a titolo esemplificativo sappiamo che sono già partiti ad opera dell'assessorato competente tavoli di lavoro interistituzionali che opereranno in maniera sinergica sull'orientamento coinvolgendo il primo e il secondo ciclo nonché gli enti di istruzione e formazione superiore la motivazione da cui parte questa mozione quindi trova in noi condivisione una piena condivisione purtroppo però non possiamo dire altrettanto circa il dispositivo senza addentrarmi troppo mi limito ad osservare che ci si chiede di dare mandato alla presidente e agli assessori competenti di garantire la conoscenza delle linee guida nazionali sull'orientamento permanente da parte dei dirigenti scolastici e appunto volevo dire che questa funzione non spetta alle istituzioni municipali bensì proprio al dirigente scolastico ognuno ha le sue competenze poi volevo parlare appunto anche dei giovani che studiano e non hanno poi alternative di lavoro quindi noi dovremmo cercare oltre che di garantire con un'adeguata politica di investimenti a livello governativo e regionale l'istruzione e la formazione dovremmo cercare di garantirne anche la possibilità di emancipazione attraverso il lavoro qui in Italia abbiamo proprio una fuga di cervelli pazzesca che non è certamente una scelta non è voglia di fare esperienza in altri paesi è semplicemente un atto di forza perché la politica sbagliata brutta di questi ultimi vent'anni ha distrutto tutte le speranze di questi ragazzi sono ragazzi come diceva che hanno studiato che quindi hanno voglia di fare però sono costretti a portare la loro ricchezza invece di averla noi la mandiamo in altri paesi e e quindi questo poi il nostro compito consiglieri tutti maggioranza e opposizione sarà quello di dare ascolto a queste istanze e contribuire a dar loro risposta in una logica di sussidarietà rispetto alle altre istituzioni formali non formali e informali secondo un approccio di rete e di sistema grazie ci sono altri interventi? consigliere Ciancio e mi perdoni Presidente proprio per ovviare a questi problemi l'argomento che ci porta in questa discussione vorrebbe evitarlo perché l'orientamento in uscita per i ragazzi è un qualcosa che tutte le istituzioni si cercano di di eseguire l'università le scuole singolarmente aprono la domenica per fare l'open day per dare l'indirizzo giusto per mostrare presentare quello che ogni scuola nel piccolo e nel grande vuole fare io come dire da parte di della nostra istituzione ho visto delle riunioni che riguardavano palesemente una posizione costituzionale di riforma quindi non aveva nulla a che vedere con l'orientamento l'iniziativa lodevole che io non condivido non condivido perché onestamente se si deve in un momento in cui c'è un referendum si vada a discutere in un luogo istituzionale istituzionale rispetto alla posizione del Sio del No mi sembra alquanto sgarbato però torniamo in merito al risolve io dico che è vero che noi ci occupiamo solo fino alle scuole medie lo diceva anche il consigliere Toti come municipio però anche da lì possiamo iniziare ad operare un giusto indirizzo per indirizzare bene i ragazzi verso un orientamento sereno condiviso dove non ci siano poi come dire queste situazioni increscevoli di ragazzi che sono costretti ad andare fuori la scelta è importante quindi la guida nazionale all'orientamento è una cosa lodevole e importante e ringrazio quindi la consigliere Cerconi che pone l'attenzione su argomenti importanti proveniendo dal mondo della scuola come me e del resto in tutta la famiglia quindi ha un occhio molto attento alle problematiche della scuola e di tutto il suo comparto grazie ci sono altri interventi considera triputi il tema dell'occupazione post diploma oggetto di questa mozione è costantemente presente nell'istituzione scolastica ma è un tema su cui anche il legislatore ha dato indicazioni ben precise con il degredo legislativo 112 del 98 all'articolo 139 trasferimenti alle province e ai comuni al comma 2 si legge i comuni anche in collaborazione con le comunità montane e le province ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche iniziative relative a ne cito qualcuna educazione degli adulti azione tese a realizzare le pari opportunità di istruzione interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute interventi integrati di orientamento scolastico e professionale argomento trattato nella mozione ricordo che i comuni sono competenti fino all'istruzione superiore di primo grado le scuole medie mentre le scuole cosiddette superiori sono di competenza delle province ovvero delle città metropolitane nel 2014 il ministro Carrozza firmava le nuove linee guida nazionali per l'orientamento permanente in premessa si fa riferimento alle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di Lisbona 2010 e di Europa 2020 e dell'orientamento lungo tutto il corso della vita come diritto permanente di ogni persona ma quali sono le indicazioni che le linee guida detta circa la loro attuazione ebbene in esse leggiamo alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento e ad essa aspetta il compito di realizzare autonomamente e in rete con gli altri soggetti pubblici e privati attività di orientamento finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze orientative tant'è che al paragrafo successivo vi è scritto per garantire funzionalità e sistematicità ai processi è opportuno che ogni istituto scolastico a partire già dalla scuola primaria come ampliamento specializzazione della funzione docente individui specifiche figure di sistema strettamente collegate tra loro con compiti di organizzare e coordinare le attività interne di orientamento e relazionarsi con il gruppo docenti dedicati organizzare e coordinare attività di orientamento mirate sia per studenti in situazioni di disagio sia per studenti plus dotati interfacciarsi interfacciarsi con continuità con gli altri attori della rete di orientamento nel territorio ebbene questi sono i compiti del cosiddetti tutor dell'orientamento docenti facenti parte dell'istituzione scolastica detto ciò sembra quindi essere chiaro che spetta al dirigente scolastico responsabile dell'attivazione di tutti i processi necessari al buon funzionamento dell'istituto scolastico individuare docenti dedicati all'orientamento realizzare attività di orientamento autonomamente o creando reti con altri soggetti pubblici o privati inoltre ricordo che i sensi del decreto PR 275 1999 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche i dirigenti scolastici reclutati mediante concorso pubblico che prevede prove di esame e conoscenza tecnico-amministrative hanno la rappresentanza legale dell'istituto hanno autonomi poteri di direzione coordinamento e valorizzazione delle risorse umane promuovono interventi per assicurare la qualità dei processi pedagogici e la collaborazione delle risorse culturali professionali sociali ed economiche del territorio or bene rileggendo il punto 2 della mozione dare mandato alla presidente e agli assessori competenti di garantire la conoscenza delle nuove linee guida nazionali sull'orientamento permanente da parte dei responsabili di ogni istituto scolastico risulta evidente quanto sia tale impegno inopportuno o quanto meno improprio oltre che di dubbio efficacia potrebbe addirittura risultare offensivo nei confronti della professionalità dei dirigenti scolastici pretendere di poter garantire cioè assicurare dare per certo e in un certo senso anche obbligare che ciò che si vuole garantire venga ottenuto qualcosa che sfugge dalla competenza del municipio e che rientra nelle responsabilità specifiche ed istituzionali di un dirigente scolastico ricordo ancora che le linee guida citate nel testo della mozione sono state trasmesse ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con nota ministeriale quindi con atto ufficiale grazie ci sono altri interventi consigliere Toti sì a parte questa mozione che penso che sia da stimolo rispetto a un dibattito sull'orientamento scolastico e sulle reali come dice la mozione possibilità di lavoro future io voglio dire che comunque l'istituzione municipale può dialogare confrontarsi con i dirigenti scolastici con la città metropolitana con la regione con chi vuole anche se non è che ha poteri chiaramente esecutivi rispetto a questo però il confronto costruttivo su questo tema il voler con le diverse istituzioni cercare di affrontare in modo diciamo migliore questo che è un grave problema della nostra nazione io penso che sia cosa lodevole la situazione italiana è molto grave tanti giovani e non solo i giovani stanno emigrando all'estero stanno aumentando anno per anno perciò ecco voglio accentuare questo che è un discorso io penso emergenziale a livello nazionale perciò ecco voglio dire che non mi trovo contrario a questa mozione anche se penso che dal mandato al Presidente del Coso ecco al Comune di interfacciarsi con il Comune di Roma e gli uffici io direi anche interfacciarsi con i dirigenti scolastici confrontarsi con i dirigenti scolastici anche con la città metropolitana rispetto a questo problema che penso è giusto che venga dal basso venga dal municipio perché io penso che riguarda tantissimi giovani anche del nostro municipio altri interventi consigliere Giannone grazie Presidente colleghi consiglieri dunque io ringrazio si sente ringrazio la consigliere Cerconi e ritengo che i temi di questa mozione siano sicuramente molto validi perché affronta un tema della prima occupazione che è sicuramente in uno stato di crisi nelle scuole si fanno come diceva il consigliere prima sicuramente delle attività di orientamento ormai in tutte le scuole il punto sta proprio in ciò che ha detto che ho sentito prima riguardo la necessità di garantire ora il comune e il municipio le istituzioni possono interagire e devono interagire ma naturalmente garantire una conoscenza garantire quindi una conoscenza e quindi obbligare in qualche modo come ho sentito prima in un altro intervento che i dirigenti in qualche modo già sono in qualche modo obbligati a fare quindi obbligare i dirigenti a conoscere delle linee di guida nazionale mi sembra un po' esagerato allora riguardo anche al primo punto cioè quello di interfacciarsi con il comune in realtà che poi è il primo punto della mozione diciamo che ricordo che ci sono già in realtà delle iniziative fatte messe in campo dalla città metropolitana di Roma un'iniziativa che ormai già in campo da parecchi anni denominata porta futuro cioè questo è un progetto realizzato con un contributo europeo fondo sociale europeo che ha come obiettivo appunto quello di fornire dei servizi per il lavoro orientamento e la formazione professionale ai giovani oltretutto questa struttura molto spesso è utilizzata anche già utilizzata dalle scuole per fare orientamento è un servizio della città metropolitana di Roma ed è diciamo ha come obiettivo quello di accogliere i ragazzi da 14 alle 17 anni di fare orientamento scolastico di informare su quelli che sono percorsi professionalizzanti e da informazioni anche sull'attivazione di percorsi di apprendistato ma non è solo la città metropolitana che ha già messo in campo queste iniziative c'è anche il comune di Roma Roma capitale che ha online un portale si chiama informagiovani Roma è appunto dedicato all'orientamento è un servizio che tra parentesi è anche più ampio perché offre servizi per ragazzi dai 14 ma giovani fino ai 35 anni cioè sono tutti include una serie di servizi anche lì di accoglienza colloqui specialistici di orientamento e supporto per la realizzazione di progetti quindi a supporto dello sviluppo di progetti segnalazioni di servizi utili sul territorio a livello nazionale e anche a livello europeo consultazioni di dossier tematici materiale informativo approfondimenti su contenuti attraverso incontri quindi organizza incontri informativi e c'è anche uno sportello appunto informativo specializzato sull'Europa e su quelle che sono le opportunità dell'Europa perché l'Europa dà anche opportunità per i giovani questo per dire che oltretutto questi servizi dell'informazione oltretutto sono inseriti all'interno di un catalogo che il Comune di Roma ogni anno invia alle scuole quindi di fatto queste iniziative di cui si chiede diciamo con cui si chiede di interfacciarsi in realtà già ci sono oltretutto il nostro municipio quindi l'assessorato nel nostro municipio ha già avviato quindi come ricordava il mio collega in precedenza un percorso di condivisione con gli istituti quindi il dialogo sicuramente c'è ci deve essere ma deve essere un dialogo come dire aperto e non deve essere una forza un aspetto non ci deve essere un aspetto di forzatura quindi dicevo l'assessorato ha già avviato questo percorso di condivisione con gli istituti scolastici e in qualche modo per cercare di insieme agli istituti guidando gli istituti così come richiesto dalle linee guida il municipio possa supportarli in quelle che sono iniziative poi che possono ricadere su quelle che la formazione l'orientamento interno che le scuole sono obbligate a fare e quindi in qualche modo il municipio faccia già possa fare da volano e da promotore per queste iniziative quindi diciamo che da questo punto di vista diciamo leggo questa mozione come un atto propositivo quindi lo diceva lo sentivo dire prima ma ritengo che però non possa essere in qualche modo favorevolmente diciamo presa in considerazione perché ci sono degli obblighi che non penso si possa riuscire ad attuare e oltretutto in alcune parti diciamo nella prima parte del dispositivo è anche diciamo riteniamo anche essere superata grazie altri interventi possiamo passare le dichiarazioni di voto ah c'è un intervento ah perfetto la replica visto che ci sono degli elementi cioè che non vanno bene però si possono proporre insomma delle delle modifiche quindi io volevo capire se erano propensi a proporre delle modifiche ma solo questo le volevo dire io non forse non mi riesco mai a spiegare bene io perché quando sento le risposte in realtà sento delle risposte in una direzione opposta a quello cioè a quello che c'è scritto cioè io vi parlo di aprire per esempio uno sportello in forma giovane al municipio che non c'è vi parlo per esempio di avere un dialogo più stretto con i responsabili che si occupano dell'orientamento che il municipio ad oggi non ha a me sono molto contenta che l'assessore si faccia i tavoli interistituzionali o parli con i vari responsabili di ogni istituto scolastico voglio capire qual è l'indirizzo di questo consiglio perché voi ogni volta è bello gli argomenti sono simpatici però non va bene niente la voglio capire non va bene c'è qualcosa da modificare l'argomento è giusto ma si riesce a capire che indirizzo vogliamo avere perché qua la questione è questa voi mi avete elencato io sono anche contenta che insomma siete così ne avete lette tante di leggi sicuramente però le leggi bisogna saperle leggere cioè è vero che la competenza è di un ente ma vi ricordo che noi siamo l'ente più prossimo ai cittadini e quindi quello su cui poi ricadono gli effetti sfavorevoli di tutto il sistema quindi o noi ci facciamo promotori di alcune iniziative che possono dare sostegno lo sportello per esempio è una di queste non mi sembra una cosa così azzardata io non l'ho voluta inserire semplicemente per il fatto che penso che ci debba essere su delle azioni più concrete una decisione all'interno di una commissione quindi si vuole dare con un atto che diventa di tutti una linea guida per poi renderlo effettivo cioè il discorso che fate voi qual è? va bene noi ce l'abbiamo già gli strumenti e quindi è inutile che ne cioè giusto l'argomento c'è disoccupazione perfetto ci sono degli strumenti ma questi strumenti non l'hanno risolto e comunque questi strumenti non ci riguardano perché questi strumenti non sono vicino a noi cioè se un giovane del nostro territorio ha necessità di un'informazione sul lavoro dove va all'interno del municipio non ha uno sportello io di questo parlo io non so se non mi so spiegare non mi capiscono ogni volta mi vanno da una parte in un indirizzo diverso ma soprattutto vi faccio un esempio è stato fatto dall'assessore è stato proposto come si chiama l'incontro sulla costituzione ma perché secondo voi non potevano farsi la scuola l'abbiamo fatto per quale motivo? perché abbiamo voluto garantire a tutti la possibilità di una informazione con dei soggetti diversi da quelli che si potevano trovare a scuola garantire tu vuoi garantire semplicemente la conoscenza si può fare un incontro con i dirigenti scolastici un incontro con i responsabili di ogni insomma di chi è responsabile della singola attività ma ve lo devo dire io che le azioni sono tantissime cioè all'interno di questo si potrebbe fare di tutto io vi sto dicendo come l'ho detto in altre situazioni di farci carico della situazione che non è una cosa complicata cioè semplicemente dire ne abbiamo preso atto perché io non riesco a capire perfetto la situazione è questa abbiamo degli strumenti che oggi non sono all'interno del municipio tra l'altro ve ne dico anche un altro così magari ci riusciamo a capire meglio ci sono le alternanze scuola lavoro possibile che questo municipio non abbia un'alternanza scuola lavoro a me che se ne occupa l'assessore va benissimo ma ve ne volete occupare pure voi ce ne vogliamo occupare pure noi o basta che se ne occupa una persona secondo me queste sono cose che vanno portate in commissione vanno discusse e ne va preso atto poi se voi mi dite va bene però sì ma no forse secondo me non è un comportamento non è una presa di coscienza sulle reali responsabilità di quest'ente riguardo alla problematica tutto qui forse ne so spiegata meglio dichiarazioni di voto consigliere Ciancio ho capito che stavamo in dichiarazione di voto però ho fatto l'intervento prima dell'ultima discussione io non scusi lei ha detto dichiarazione di voto e io ho detto scusi c'era il chiarimento per i 5 minuti esattamente ma quelli sono a fine discussione io non so allora se c'è allora vediamo io posso anche sospendere non c'è nessun problema allora facciamo quest'ultimo intervento e poi passiamo alle dichiarazioni io sto proponendo anche di modificarlo è un sì o un no non serve un intervento serve un intervento qualcuno dovrà pur dire in quel senso era no no in quel senso era no per carità Presidente posso fare un richiamo al regolamento per favore un richiamo al regolamento lo posso fare sempre le precisazioni le può fare la consigliera ma non non sono precisazioni che vanno alla fine della discussione per cui si debba passare in dichiarazione di voto quelli sono le precisazioni per risposte a titolo personali che vanno a tergo non le precisazioni dopo la precisazione della consigliera è previsto il proseguo del dibattito se ci sono interventi non si deve passare per forza alla dichiarazione di voto per cui il consigliere ha chiesto la parola e secondo me deve essere data grazie allora in realtà diciamo la possibilità di replica è ai relatori e quindi sono quelli che hanno fatto i primi interventi la relazione sull'atto e dopodiché si passa alla dichiarazione di voto e a quel punto io pensavo di essere arrivato posso Presidente certo io non ho capito se era una precisazione o se era altro era una replica un chiarimento era un chiarimento ok però a me sembrava una precisazione quindi poi lo fa cosa è più cosa non cosa è dichiarato lo fa cosa è mi sembrava una precisazione le precisazioni non prevedono che si dirotti poi la seduta verso la dichiarazione di voto se poi era una replica una replica le prendiamo atto mi sembrava una precisazione le precisazioni non convogliano diciamo così la sala io sono d'accordo con lei lo diceva la Presidenza allora vogliamo riassumere vogliamo riassumere c'è stata la replica della consigliera Cerconi che l'espettava assolutamente ha fatto una proposta nella replica era una replica in cui ha chiarito meglio il suo pensiero e ha fatto una proposta ha chiesto anche a me di intervenire con sospensione del consiglio se è necessario se è assolutamente assolutamente come dice lei Cerconi sono d'accordo quindi questo punto quello che bisogna vedere se c'è la volontà di sospensione del consiglio e di messa in discussione dell'atto anche se poi vorrei ricordare anche per le prossime volte la messa in discussione dell'atto magari si fa all'inizio senza diciamo per evitare tutte quante le discussioni che ci sono state perché voglio dire se c'è perché la discussione dell'atto all'inizio va voglio dire l'atto viene ritirato se viene ritirato viene viene fatto prima non è che si arriva alla dichiarazione di voto in genere scusate io non lo sto ritirando io sto chiedendo se hanno intenzione se hanno intenzione di modificare l'atto non lo posso sapere se loro prima non mi dicono che pensano ok no no ho capito frainteso pensavo ritirare invece avevo capito ritirare per portare in commissione quindi per modifica quindi pareri sulla sospensione consigliera la Zazzera io volevo precisare che la consigliera non ha chiesto uno sportello di ascolto al municipio ha chiesto un piano di orientamento scolastico un po' diverso quindi lei ha accentuato scusate che ha chiesto scusate scusate si sta riaprendo la discussione si può era solo una precisazione no no allora io ripeto e lo ripeto la precisazione la possono fare solo i primi due relatori iniziali ah lei era allora si era la prima si è assente un piano di orientamento scolastico su scala comunale che guidi e sostenga interfacciarsi con il comune di Roma e gli uffici per valutare e favorire va bene poi lei aveva parlato proprio di uno sportello qui in municipio quindi va bene ne possiamo adesso vediamo allora io direi che c'è bisogno in questo momento di una piccola sospensione per capire di cosa stiamo parlando e di cosa si vuole fare quindi direi una sospensione di 10 minuti e se così bicchiarite con lei la ritira deve dire che ha sentito il camone se ne ha chiamato si dobbiamo verificare voi se abbiamo inserito qui la mozione è sbagliata come cosa è poi dopo ce lo guardiamo bene però ragazzi secondo me signore ragazzi se tu vedi il mio se tu vedi il mio tutto piano appunto prima così domani è un delirio non è lì guarda non è la fatica dunque chiediamo il consiglio vedi il collega vuole fare questa non c'è non c'è prima che inizi la discussione o di risoluzione ok allora mi sbaglio io e sulle mozioni invece no le mozioni a vedere ma a fare riferimento a questi ah sì eccola Presidente quanto c'è la parola ah ok guarda la cosa è ok ok no no va bene va bene allora almeno questo è il consiglio per evitare la forza di questa cosa quando il consigliere che può essere in qualsiasi altro poi a favore secondo però la mia interpretazione e noi l'abbiamo sempre fatto di intervenire in dibattito perché è in quella sede che poi e poi alla fine c'è la rete ma tanto 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 no tanto solamente alla fine direi perché questo qui deve poter intervenire sempre ma non c'è quello sì quello va a togliere ma non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è allora riprendiamo la seduta dal punto in cui avevamo interrotto allora consigliere Acerconi certo con la maggioranza la quale è interessata a discutere l'argomento e d'accordo anche con il consigliere Carlone ritiriamo la mozione ripresenteremo l'atto nella commissione indicata chiedendo però che l'esame di questa avvenga entro i 15 giorni questo sì va bene quindi ha contattato già il consigliere Carlone il consigliere Carlone deve stare in aula per ritirare l'atto mi dispiace se si assume la responsabilità io non mi assumo niente allora andiamo a votazione no scusa allora ci sono gli scudatori campanella perché non ci mancano Tosatti la Zardo e Toti Tosatti non c'è la Zardo e la Cetta Toti c'è campanella eh lo so tornerà torneranno eccoli uno al bagno va bene nominiamo un altro scudatore perché Tosatti si è allontanato può fare tranquillamente lo scudatore Lazzari a servizio sì allora si va quindi in votazione della mozione presentata perfetto allora rinominiamo scrutatore no no un attimo fatemi finire abbiamo fatto la discussione adesso è il momento di votare quindi ci sono le dichiarazioni di voto passiamo alle dichiarazioni di voto io così dico e ovviamente Fratelli d'Italia visto l'ha presentato si vota favorevolmente l'atto vanno incontro ad una bocciatura cosa che mi dispiace molto l'atto sarà sarà riproposto altre dichiarazioni di voto consigliere Giannone pur essendo diciamo favorevoli a discutere questo argomento in commissione ma per quanto già espresso in precedenza quindi ritenendo un lato fuori diciamo fuori fuoco non attuabile in alcuna parte e in altre parti già coperto da quelli che sono servizi del già in atto in questo comune noi diciamo votiamo negativamente ripeto se la se la mozione fosse stata comunque ritirata fosse stato possibile ritirata noi non avremmo avuto alcuna difficoltà a discuterla nei termini in cui parlava la consigliera Cerconi in commissione ad ogni modo c'è un impegno della presenza della commissione scuola di seguire anche questo tema grazie è la dichiarazione di voto contrario allora consigliere Toti mi fa piacere che venga messa all'ordine del giorno di una commissione futura nella commissione scuola del municipio io anche nell'intervento che ho fatto precedentemente ho detto che c'erano alcune cose da aggiungere comunque alla mozione perché fosse più precisa rispetto alle richieste comunque ecco lo spirito per me della mozione è positivo e per questo del voto di Roma Popolare a favore consigliere Ciancio grazie giusto velocemente per fare una dichiarazione di voto positiva e motivarla dicendo che non si può ragionare a fase alterna rispetto alle linee guide per me di esse hanno posizioni disperate a volte rispetto alle 60 ore di lavoro che devono fare necessariamente per obbligo ai ragazzi ma vorrei mettere sul tavolo della futura commissione linea guida anche relativa al dimensionamento so che l'assessore si è visto per questo tema e come dire questa volta in faccia a quello che non vogliono fare ci sono delle situazioni invece su cui bisognava intervenire quindi a volte bisogna essere anche coraggiosi con i DS con i dirigenti scolastici nel dire voi non attuate le linee guida il municipio se ne assume una piena responsabilità per i progetti didattici dei nostri futuri mannaggia scusate per i futuri lavoratori del nostro paese questo è l'impegno le linee guida non sono una cosa che va dice ah è tutto lo devono fare i dirigenti e molte volte i dirigenti non eseguono quello che comunemente una linea guida giusta pone mi riferisco basta pensare al dimensionamento scolastico scuole confinanti appartengono a istituti comprensivi diversi e però questo tema non mi sembra che nell'ultima riunione a cui il 70% dei dirigenti non ha voluto aderire alla riunione sia stato messo sul tavolo è un tema antico di cui io non mi scordo però perché io so dire di no al dirigente scolastico sono un insegnante come lei come lei come tutti la platea che sta dall'altra parte come molti della famiglia della consigliera Cerconi per cui il tema delle linee guida è importante grazie per questo voteremo favorevolmente grazie ci sono altre dichiarazioni basta quindi possiamo passare alla votazione favorevoli contrari sì quindi sono cinque favorevoli quattordici contrari e la mozione viene respinta il consiglio è chiuso grazie 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 grazie